3Tops Kids Club Tra poco una piccola intervista per capire come funziona il mini club a bordo di Norwegian J Questo quadro è la presentazione delle ragazze che si occupano dei bambini In questo momento ci sono soltanto 25-30 bambini e siamo 8 persone che lavorano con i bambini ma quando è alta temporada possiamo avere 800-900 bambini e dopo ci sono molte persone da lavorare con i bambini Il programma dei bambini è la nave ci sono 4 gruppi uno gruppo di 2 a 5 anni un altro gruppo di 6 a 9 un gruppo di 10 a 12 e di 13 a 17 I bambini di 2 a 12 giocano qui in questa area ma questa prima stanza è per i bambini di 6 a 9 c'è un'altra stanza o un'altra camera per i bambini di 2 a 5 anni e c'è un altro spazio per i bambini di 10 a 12 Qui al Kids Center non possiamo servire qualche tipo di cibo e i genitori devono venire e portare i bambini a mangiare il cibo, la pasta o qualche cosa e noi non accompagniamo i bambini c'è soltanto una notte che teniamo il Kids Dinner e questo giorno o questa sera portiamo i bambini al ristorante Il nostro programma va dalla 9 della mattina alle 10 e mezza della notte quando siamo a mare dopo della 10 e mezza c'è un programma che si chiama Late Night e che è fino alle 1 e mezza della mattina per questo programma c'è un costo di 6 dollari per hour e quando siamo a Porto stiamo aperto ma anche c'è un costo di 6 dollari per hour quando siamo a Porto i bambini possono portare qui all'Origin Jade il Kids Center è nel centro della nave soltanto i bambini non soffrono con il movimento del mare sì ma in altra nave dopo è differente qui a bordo dell'Origin Jade c'è un ristorante che si chiama Garden Cafe e in questo ristorante c'è una zona che è riservata ai bambini ci sono molti o diversi tipi di cibo e ci sono piccoli, piccoli, come si dice? seggio, tavolini, buffet e in questo ristorante tutto è preparato per i bambini la nostra attività qui al Kids Center è variata o è diversa ci sono giochi con una palla, c'è una cassetta, un jungle gym e ci sono attività che sono mia preferita di Arts & Crafts adesso sono 8 a lavorare con i bambini ci sono due counselor che parlano un pochino di italiano c'è una counselor che parla francese, germane, tedesco sì, sorry sì, adesso siamo 8 persone che lavorano con i bambini e due parlano un po' di italiano c'è un'altra counselor che parla un po' di tedesco il francese e un po' di russo un po' di qualche altra lingua ok, see you next time in Lifeboat ti vediamo un'altra volta in Lifeboat grazie mille, alla prossima crociera i gali sono per i bambini di Lifeboat sì, ti vediamo